Ma chi ne partisce a te dei contro reali, compromesse, fiume di fango, di triti, altezza al metro, 150 motori distrutti. Assicuratore, lui dice chiamala Belfort, non c'è più traccia di quello che è successo. Belfort è leader nel recupero dopo alluvioni, incendi e inquinamento. Ha creato PIA, pronto intervento azienda. Priorità di intervento in 24 ore e formazione del tuo personale. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiede al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Stiamo avvicinando alla festa del Partito Democratico, le macchine questa sera per l'appento e per la presenza del signor sindaco di Tirenze scoppiano da tutte le parti e tutti gli spazi sono occupati. Non ci sarà verso assolutamente di parcheggiare. Ecco che le macchine stringono l'assegno come non mai stasera la festa del Partito Democratico. E già da qui si vede praticamente il gran pienone che il signor Matteo Renzi... ...un veicolo commerciale. È stato avvistato ieri a Milano, ma prima ero stato a Napoli, a Londra, in Turchia, a Russia... ...se non vuoi trovarti in questa situazione, scegli Visiran e sei sempre in tempo reale dove sono e cosa fanno i tuoi mezzi. Controlli i consumi di carburante e comunichi con i tuoi autisti in tutto l'uomo. Prova di seguito gratis.